Quale trucco ti è piaciuto di più in questo makeover? Rispondi nei commenti qui sotto! Non dimenticare di condividere il video con gli amici e di iscriverti al canale per altri video divertenti come questo qui! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non sono capace di camminare con i tacchi! Non devi mettere peso sui talloni ma sulle dita dei piedi, ok? Va bene, aspetta un attimo. Ascolta, tieni la schiena dritta e il mento in alto. Ecco, prova a camminare adesso. Va bene, va bene, hai capito? Oh, forse, forse no. Credo sia una causa persa. Mmm, ha lo zaino pieno di libri e romanzi. Potrebbe effettivamente essere la soluzione. Bene, tieni i libri in testa. Questo ti insegnerà ad avere una buona postura. Vedi, guarda, cammina così. Ah, ho capito! Sì, lo stai facendo! Ehi, aspetta, che fine hanno fatto i tacchi? E scalza! Ma così non serve a niente! Ehi! Ok. Ecco, li ho rimessi. No, i miei libri! Ah, i miei occhiali! Oh! Oh, uffa! Fa caldo oggi, lei ci sta mettendo un'eternità e persino i suoi libri stanno soffrendo. Dai, forza! Ehi, penso di aver capito! Guarda! Sì, ce l'hai fatta! Sapevo ci saresti riuscita! Oh? Wow, guarda cosa sta facendo! Ciao! Ah! Oh, sembra che si sia fatta male. Aia! Wow, in questa rivista sono tutte così alla moda! Che fortuna! Magari fossi anch'io così. Oh, interessante! Ma dai! Ragazza mia, fai qualcosa per quel monociglio! Al lavoro con le pinzette! Una foto mi ha appena insultata! Insomma, non è così male, giusto? Forse devo fare qualcosa davvero. Ma cosa? Non ho le pinzette! Oh, il mio astuccio! Forse qui troverò qualcosa di utile. Colla? Nah! Oh, un pettine per le sopracciglia! No, non va bene. C'è solo una cosa che posso fare. Andare a fare shopping! Wow, guarda quanti prodotti! Sicuramente venderanno le pinzette. Ma dove le tengono? Ah, wow! C'è un sacco di scelta! Oh, queste qui andranno bene. Sicuramente fanno al caso mio. Finalmente dirò addio al monociglio. Prendo queste, grazie. E certo, solo un... Basta, no? No, sono 50 dollari. Per un paio di pinzette. Non ho tutti quei soldi. Ehi, forse posso aiutarti. Puoi usare le monete al posto delle pinzette, sai? Fidati. Ok, ma farà male? C'è solo un modo per scoprirlo. Metti le monetine così e afferra i peli. Così li potrai tirare senza problemi. Meno male che non ci sono altri clienti. Abbiamo finito, direi. Guarda. Wow, fantastico! Grazie! Non c'è di che. Quasi finito. Ecco fatto. Mamma dice che devo pettinarmi bene. Oh, che brupolo enorme! No, non posso spremerlo. Ma forse posso... Solo un po'? Però, che sensazioni! Devo pulire tutto questo schifo. Oh, cremoso. Così va meglio. Ed è ora di dormire. Ah, sto così comoda. Che bella dormita. Non vedo nulla. Dove ho messo gli occhiali? Ora va meglio. Non ci credo. Sono coperta di brupoli. Qualcosa non va, tesoro? Oh, e voglio dire buongiorno. Hai visto, mamma? Ok, tranquilla. Ti serve solo un po' di trucco. Non temere. Di solito basta appena un po' di fondotinta. Secondo te funzionerà? No, ehm... Non si può! Continuiamo a cercare. Oh, questo forse può andare. Che cos'è? Sono tipo dei cerottini, davvero molto utili. Metti i cerotti sui tuoi brupoli. Per fortuna ne abbiamo tanti. Ce ne serviranno un bel po'. Tutto qui? Non abbiamo ancora finito. Adesso li togliamo. Vedi? I brupoli sono svaniti. Addio, Acne. Guarda tu stessi. Wow! Cos'è stregoneria? Incredibile. Grazie, mamma. Nessun problema, tesoro. Ti voglio bene. Troppi tostapane qui dentro. Oh, cos'è stato? Oh, la mia sveglia. Altri cinque minuti. Sì, è ora di prepararsi per andare a scuola. Sarà una giornata meravigliosa. No, torno a letto. Allora, mi devo preparare. Ok, la mia faccia è bella e pulita. Aspetta. Pazienza, nessun problema. Mi pettino i capelli con le dita. Ok, dovrebbe andare. Ok, quale occhiali dovrei indossare? Forse questi blu? O magari sono più da Harry Potter oggi. Sì, perfetti. E adesso la camicetta. Quale prendo? Bianco candido o a pua? È bianco sì, allora. Sarò fantastica. Ah, perché bisogna andare a scuola così presto? Aspetta un attimo. No, no, no. Un brufolo. Proprio sulla punta del naso. Ok, questa mi aiuterà ad eliminarlo. Mi lavo i denti mentre la crema fa il suo lavoro. Devo ledigare i pori e la pelle. Adoro farlo. E ora il mascara. 99, 100. È tutto a posto. È ora di scegliere cosa indossare. Mmm, forse queste? Gonna rossa e camicia rosa? Saranno bene insieme? Sì, penso di sì. E avevo perfettamente ragione. Sto benissimo. Giorno. Pronta per la scuola? Perché io non vedo l'ora. Devo solo assicurarmi di avere tutti i libri. A un certo punto dovrò ritoccarmi il trucco. Meglio portare anche i miei pennarelli. Nel caso ne avessi bisogno per disegnare. Ah, perché questo asciugacapelli non entra nella borsa? Oh, niente. Cos'altro? Questo taccuino? No, non ne ho bisogno. Va bene. Pronta per andare? Facciamolo. Oh mio Dio. Mogli lascerà la giungla. Non può essere. Lo farà. Oh mio Dio. Non so cosa pensare. È un bene o un male. Devo bere qualcosa. Oh, che bel libro. Aspetta. Perché mi sento strana in faccia? Sono piena di brufoli e accidenti. Oh no. Sembro una pizza. Non posso farmi vedere così. Devo fare qualcosa. È ora di scoppiarli. Ah? Che sta succedendo? Sento che qualcuno non si sta curando la pelle. Oh! Che stai facendo? Fermati! No! Non spremerli. Non spiegherai soltanto le cose. Sei fortunata che hai me come amica perché ti aiuterò. Cosa sono quelli e che dovrei farci? Mi hai messo un adesivo in faccia? Certo che sì. È un trattamento contro l'acne. Ti aiuterà. Credimi. Mettiamoli su tutti i brufoli. Sul serio? Vuoi mettere degli adesivi su tutta la mia faccia? Sì. La tua pelle tornerà liscia e pulita. Mi sento così strana con questa roba addosso. Finito, vero? Posso toglierli, giusto? No, no. Devi lasciarli per tipo quattro ore. Quattro ore? Sul serio? Le tipografie sono in sciopero. Ehi, svegliati. Sono rimasti pochi secondi al timer. Ok, togliamoli. Ecco il primo. Non si vede nemmeno. Sarai così scioccata e sorpresa dai risultati. Sì, avevo ragione. Passami lo specchio, così posso vedere. Non ci posso credere. Guarda che pelle che ho. Sì. Aspetta, che stai facendo? Non c'è da stupirsi che hai tutti quei brufoli in faccia. È una storia così pazza, vero? A proposito. Sì. Kevin vuole che vada a una festa. Devi andarci. Vorrei che Kevin invitasse me ad una festa. Mi piacerebbe ballare tra le sue braccia. Posso venire anch'io? Eh, non così. Oh, non ho i miei trucchi. Ci penso io, Ava. Ho un po' di tutto qui. E adesso diamoci dentro. Sì, ok. Ma ce l'ho anch'io, vedi? Ta-da! Oh, ecco il mio pennello. Carino, vero? È interessante, sì. Ultimamente preferisco le matitone. Il contouring trasforma il mio viso, anche se all'inizio sembra strano. E la fronte è pronta, adesso per la tonalità più chiara. Questa parte è fondamentale. Sembra pittura per il viso, vero? E adesso dobbiamo uniformare il tutto. Vedi? Ha funzionato. Voglio provare! Sotto gli zigomi, eh? Vacci piano con quel coso. Sì, è sotto gli occhi. Stai calcando un pochino troppo. Adesso sfumo, giusto? Sì. Wow! Forse dovrai esercitarti per un po'. Penso di essere perfetta. Andiamo? Immagino di sì. Questo libro è così intrigante. Non riesco a metterlo giù. Cosa dice? Mi serve più luce, non riesco a leggere. Ma cos'è? Oh, che schifo! Che ci fa una cosa simile? Devo pulirmi la mano. Ah, dei fazzoletti. Quello che mi serve. No, non può essere. Quella è gomma. Da dove viene? Devo sbarazzarmene. Ah, ma che cosa ho fatto? Che schifo! È disgustoso! Non posso più sedermi lì. Leggerò sul mio letto. Aspetta. C'è qualcosa nei miei capelli? Sky! Ehi, ciao, coinquilina. Questa è la tua gomma? Io devo andare. Ehi, torna qui. Va bene. Guarda qui. Quindi? Beh. Ho un'idea. Parkour, torno subito. Non muoverti. Sky! Che diavolo! Questo risolverà tutto. Mousse per capelli. Perché? Hai così tanto da imparare. Guarda qui. Massaggio la mousse tra i tuoi capelli. Come può essere d'aiuto? Adesso la gomma verrà via. Wow, stregoneria! Figo, eh? Oh, santo cielo, sei fantastica! Grazie. A me succede spesso, sai? Oh, non provarci neanche. Fai finta di niente. Wow. Qualcuno ha qualche spiccio da darmi? Oh, ma poverino. Sai che c'è? Dovrei aiutarlo. Ecco qui. Sembra proprio che tu ne abbia bisogno. Oh, la mia bibita. La vorrà sicuramente. Tieni, prendi anche questa. Wow, grazie! Chissà se ha freddo. Wow, sei troppo premurosa! Ma no, non è niente. Sul serio, volevo solo aiutarti. Che bella canzone! Oh, quel tipo sta messo male. So io che fare. Una chitarra si temerà tutto. Sono così contenta di aver creato questa canzone ieri. Sì, funziona! La gente mi sta dando un sacco di soldi. Wow, fatto! Ok, raccimoliamo tutto. Ho guadagnato un sacco. Ehi tu! Comprati un hamburger. Sul serio? Sono tantissimi soldi. Grazie, sei un angelo. Ma di che? Non è niente. Ma quella storia è troppo forte. Ehi, ho una sorpresa per te. Wow, un lecca-lecca. Lo adoro. Ok, andiamocene. Oh no, stagli attenta. Quel cane sembra pericoloso. Pericoloso? No, sul serio. Fa attenzione, potrebbe morderti. Non avvicinarti troppo. Adesso siamo al sicuro. Ok, pronta ad andare? Oh, qualcuno mi sta chiamando. Oh, qualcuno mi sta chiamando. Ciao, che piacere sentirti. Sul serio? È straordinario. Oh, un cane. Com'è carino. Cucciolone, guarda come sei bello. È troppo adorabile. Ma chi è bravo? Sì, tu lo sei. Ciao, ciao. Che bel modo di cominciare la giornata. Forza piccolo, andiamo. Ciao. Oh, i suoi capelli sono un disastro. Mi sento male. La gente riderà di lei. Che situazione imbarazzante. Fermati, ti aiuterò io con i capelli. Gli daremo una bella sistemata. Inizieremo togliendo questo elattico. Ok, ma sono sempre in disordine. Perché ci sto ancora lavorando? Hai bisogno di un po' di colore. Prima useremo alcuni pennarelli. Taglierò le estremità e tirerò fuori l'inchiostro. È una cannuccia con dell'inchiostro. Posso soffiarci dentro. La metto in bocca e... Voilà! Ecco che il colore viene fuori. Ok, ora che ho il colore ho bisogno della crema. Ne aggiungo un po' e inizio a mescolare col colore. Ok, siamo pronte per il prossimo step. Una volta messi i guanti, si procede. Ne metterò un po' su una ciocca di capelli. Poi l'avvolgerò con un foglio di alluminio. Bene! È l'ora del viola! Sei sicura che sia davvero una buona idea? Sì, vedrai quando sarà tutto finito. Alluminio anche per questa. Ora dobbiamo solo aspettare. Ok, è ora di controllare i capelli. Basterà rimuovere il foglio e voilà! Oh, sono troppo spaventata per guardare! Aspetta, sono i miei capelli! Sono verdi e viola! Wow, sono bellissimi! Li adoro! Ti servirà un'altra cosa per completare il look. Toglieremo questi occhiali. Riesci a vedere senza, vero? Sai cosa? Togliti anche il cardigan. Lo mettiamo laggiù. Dove deve stare? E slaccia il primo bottone. Mi sento abbastanza, beh, carina! Forza, andiamo in classe! Bene, è ora di sboggiare il tuo nuovo look! Wow, vedi anche tu, viola e verde! Oddio, nessuno sta ridendo! Grazie mille! Devo andare in classe. Chissà cosa impareremo oggi. Wow! Spero che nessuno abbia visto. Oh mio Dio, se solo avessi fatto una foto! Goditi il viaggio! Ignora gli hater, Annie! Ma come faccio? Perché devono essere così cattivi? Sì, bla bla bla. Quella tipa è così fastidiosa. Faccio del mio meglio e lei si comporta così. Annie, che c'è? Mi prendevano in giro come al solito. Vi tengo d'occhio! E a te che è successo? Ho preso un'altra insufficienza. La quarta in questa settimana. Ehi, ho un'idea! Scambiamoci il look! Capisci? Tipo fare un makeover totale a vicenda. Sembra divertente. Proviamoci. Benvenuta nella mia casa. C'è così tanto rosa. Troppo rosa. Comincio ad avere seri dubbi sulla faccenda. Rilassati. Non saprei. Ehi, aspetta. Eh? Cosa sta sulla tua pelle? Che intendi dire? Te lo mostro, guarda. Oh no! Guarda quanti brufoli! Così non va. Me ne devo sbarazzare subito. Questo rimuovi brufoli fa al caso mio. Funziona sempre. Annie, sul serio? Ma che fai? Ferma. Perché? Lo faccio tutte le mattine. Ok, ho capito. Lascio stare. Ho qualcosa di meglio per te. Sta qui da qualche parte. Un paperotto di gomma. Ok, inquietante direi. Perché ti porti dietro quel coso? Aha, ecco. Questo risolverà tutto. Lo poggio delicatamente sui tuoi brufoli. Spariranno subito. Ma non senti caldo anche tu? Brucia, fa male. Fermati, fermati. Che roba è? Ma qual è il problema? Aspetta. Oh, capisco. Questa è la mia salsa piccante. Almeno per un po' sei stata piccante anche tu. Ecco che ci serve. No, eh? Tranquilla, guarda. Provo prima io. Una maschera per il visore infrescante. Prova. Oh, che lusso. Bellissima sensazione. Wow. E adesso? La togliamo via in uno, due, tre. L'abbiamo tenuta abbastanza. Non vedo l'ora di vedere la mia pelle. Wow, guarda qui. Tutti i miei piercing e tatuaggi sono spariti. Wow. Tutti i miei brufoli sono spariti. Te l'ho detto che avrebbe funzionato. Vatti qui, siamo mitiche. Dobbiamo fare qualcosa per i vestiti adesso. Scordati tutto quel rosa. Prova invece qualcosa di più monocromatico. Non posso guardare. Hai, adesso puoi. Questo trasformerà il tuo look. Ma dobbiamo alterare qualcosa. Faccio un taglio nei collant proprio qui. Poi lo mettiamo sulla tua testa. Potevi almeno lavarli prima. Avvolgiamo il collant intorno al tuo collo e li allacciamo insieme così. Così, vai. Originale, però. Non mi convince. Vieni con me. Dobbiamo setacciare il tuo armadio. Cosa scegliamo qui? Oh, un unicorno. Anche no. Ma questo? È un costume da fata. Già, bello, vero? Deve sparire. La faccenda è difficilissima. Ci sono! Puoi almeno avvertirmi prima di fare certe cose? Rilassati, è solo la mia t-shirt. Dobbiamo fare qualche modifica. Metto questi stencil sulla maglietta. Li sistemo con molta cura. Poi mi serve un flacone di candeggina. Ne verso un po' sulla maglietta così. Devo coprire bene tutti gli stencil. Devono assorbire la candeggina. Poi rimuovo gli stencil, ma prima dipingo tutto intorno. Con il colore bianco creo un contorno. Come mi diverto. Dovevo fare la stilista. Spruzzo un po'. Spruzzo un po' di pittura sulla maglietta e ora posso rimuovere gli stencil. L'effetto sarà molto carino. Proprio quel che vorrei indossare. Che ne pensi? Vediamo come ti sta. Wow, è fantastico! Wow, è un look un po' diverso, ma mi piace. Hai un grande talento, Emma. Lo so, modestia a parte. Ok, tocca a te. Prima di tutto ci serve questo. Questo renderà tutto più facile. Al volo! A che serve? Wow, ma come ci sei riuscita! Già, mi piace un sacco, carino. Sei adorabile! E adesso che si fa? Non puoi masticare il chewing gum. Ehi, ci siamo dimenticate dei miei capelli. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, hai ragione, ma cosa? Possiamo usare queste penne. Aggiungere colore. Buona idea! Divideremo in sezioni. Coloreremo i tuoi capelli con la penna. L'inchiostro fungerà da tinta. Useremo vari colori. A chi serve andare dal parrucchiere? Devi toglierti questi. Fammi dare un'occhiata. Wow, bellissimo! Lo so, facciamoci un selfie. Aspetta, non così in fretta. Non dovremmo truccarci prima? Ah, incredibile come ho fatto a non pensarci. Dobbiamo scambiarci. Dai, facciamolo. Questo sarà un look davvero molto diverso per me. Ehi, questo cos'è? Wow! Bisogna delle farfalline. Ti aiuterò io. Non muoverti. Ti starà benissimo qui vicino all'occhio. Oh, che carina. E adesso sotto con il make-up. Fatto? Sei una vera maga del make-up, Annie. Anch'io devo truccarmi. Mi sento ribelle. Devo indossare i make-up così più spesso. Adoro questo look fumoso. Stai da favola, lo sapevo. Dobbiamo andare al centro commerciale. Jake e Kevin saranno lì tra poco. E forse ci sarà anche Chris. Emma, smetti di blaterare. Ma, ma... Devo metterti il rossetto. Lo disegno su questo nastro. Ferma così. E adesso rimuoviamo il nastro. Almeno non è una ceretta. Premerò il nastro sulle tue labbra così. Aspetta e vedrai. Dovrebbe funzionare. Wow! Quel colore ti sta proprio bene. C'è qualcosa che manca al tuo look ancora. Devo prendere qualcosa dalla borsa. Ci servono queste graffezze. Così daremo il tocco finale. Le piego in questo modo. Le voglio perfettamente dritte. Poi le avvolgo intorno a questo pennello. Voglio creare una spirale. Oh, interessante! Deve essere tutto preciso. Così è perfetto. Ora diamo una piccola scossa. Ed ecco che l'abbiamo separato in sezioni. Proprio quel che volevo. Sarà un piercing fantastico. E non c'è bisogno di aghi o di soffrire. Ho sempre voluto un piercing al labbro. Mia madre si infurierebbe. Adesso la tua puntina di sicurezza. La inserisco con cura nei capelli. Ed ecco, ferma al suo posto. Faccio lo stesso nella direzione opposta. E continuo lungo i tuoi capelli. Credo che ci siamo. Aspetta, dobbiamo scambiarci le borse. Ottima idea, sì. Avrei avuto l'aspetto di una sfigata con quella. Adoro i nostri nuovi look. Ce l'abbiamo fatta. Bel lavoro, ragazza. Andiamo. Proviamo a truccarci. Questo potrebbe essere più difficile di quanto pensassi. No! Preso. Mi basterà un solo dito per farlo uscire. Oh, che pasticcio! Ah, che schifo! Lo applicherò direttamente sul viso. Ehi, sta funzionando! Bene, devo solo sfumarlo adesso. Spero che non sia troppo. Ok, penso si sia amalgamato. Ora per le labbra. Ecco qui. Mi devo sbrigare. Non deve sgocciolare. Proprio così? Credo che le mie labbra siano qui. Ehi, Betty! Ti sei guardata allo specchio? Assomiglia a un clown! Guardati! Che cosa ho fatto? Va bene, non andare nel panico. Pulisciti, tipo, ovunque. Oh, che casino! Quello che ti serve è riuscire bene a sfumare il trucco. Wow, non sapevo che esistesse una cosa del genere. Metti il trucco sulla spugna e poi appoggiala contro il viso. Farà tutto il lavoro per te. È un vero salvavita, accidenti. Sono di nuovo bella. Oh, è per le labbra, invece. Prova questo qui, aspetta. Adesso premi la bottiglia sulle labbra. Su, prova. Ok, vado allora. Oh, ha funzionato? Bene. Oh, mi stavo per dimenticare. Che stai facendo lì? Oh, le mie sopracciglia, vedi? Oh, è un caso disperato. Wow, guarda che lineamenti. È più scolpito di una statua. Amo più lui che la matematica, sì. Guarda che viso. Mi noterà oggi? Ehi, dolcezza. Che si dice? Ti vedo bene. Dammi un pizzicotto, sto sognando. Sta davvero venendo qui. Oh. Ma certo, stava parlando con Annie. Chi non parlerebbe con una così? Una gonna metallizzata. Non ci starei neanche bene. Soprattutto con queste. Ciao, mamma. Giornataccia, tesoro. Almeno non l'hai passata a piegare i vestiti. Fammi il piacere, mettili via, va bene? Grazie, tesoro. Questa giornata va di male in peggio. Ma aspetta. So io come farmi notare, sì. Metterò via questi più tardi. Ho altre cose a cui pensare adesso. Molto meglio. Adesso lo allaccio così. È il momento della verità. Ma mi serve più imbottitura. Molto meglio. E come maglietta? Sembro un'altra. Sto proprio bene, vero? Vediamo se adesso mi noterà. Wow. Ma quella è Chloe? Oh, ciao. Ehi. Ti sono cresciute in una notte sola? Beh, sì, puoi dirlo. Allora, che ne dici se andiamo al cinema? Questo libro è così bello. E anche quest'hamburger. Spostati. Sei pronta per allenarti con me? Andiamo. Ginnastica. Sì, beh, no, grazie. Non fa per me. Pensavo volessi stare in forma. Credo di averlo detto. E non hai detto che volevi impressionare la tua cotta? Ok, hai ragione, l'ho detto. Allora vengo. Bene, seguimi. Ti rimetto in forma. Sono esausta solo a guardarti. Non dimenticare di allenare anche le braccia, non solo le gambe. Avanti, andiamo qua giù. È bello qui. Se lo dici tu. Ehi, smettila di perdere tempo. Dacci dentro e sbrigati. Solo un piede dopo l'altro è così che si fa. Oh mio Dio. Penso di star morendo. Non stai morendo, stai bene. Continua così. Devo solo immaginare di baciare quelle belle labbra. Basta. Solo un altro paio. Ci stai riuscendo. Avanti, non pensare al dolore. Sì, su. Oh mio Dio, sono così esausta. Sto a pezzi. Grazie al cielo sono finalmente a casa. Ehi, il mio hamburger è ancora qui. Sto morendo di fame. Sì, adesso ti mangio, succoso hamburger. Aspetta, devo nascondermi così non mi vede. Dovrei essere al sicuro qui. È ora di mangiare. Ah? Dove è andata? Pensavo fosse tornata a casa. Qui non c'è. Chissà dove sarà andata. Aspetta, mi sembra di sentire qualcuno masticare. Ehi, ti ho trovata. Si è messa sotto al tavolo perché crede non possa vederla. Da qui. Dopo tutta quella fatica non puoi rovinare tutto. Tieni, se hai fame mangia queste mele. Faremo un frullato, ti farà bene e sarà gustoso. Ecco qui, baby. È davvero sano. Sul serio? Non ha affatto un buon sapore. Hai ragione, orribile. Scusa. È quasi ora di andare. Meglio che mi prepari. Come sono i miei capelli? Forse dovrei provare qualcosa di diverso. Aspetta, se ripenso all'ultima volta... Au, che male! Ma perché continuo a farlo? Il cavo è incastrato. Cos'è successo? No, non va bene. Non la userò mai più. Ci deve essere un modo per farmi ricci senza ferirmi. Forse posso usare queste mollette. Proviamo. Metterò i miei capelli sopra lo stendino e poi li avvolgerò attorno alle aste. Poi userò le mollette per tenerle in posizione. Ecco, spero che funzioni. Forse sembro ridicola, ma ne varrà la pena. Vediamo come sono venuti i riccioli. Ah, che sensazione! Wow, i miei capelli stanno benissimo! Tempo di andare! Oh, perché questa piastra vuole farmi del male? Ma dico, guardatelo laggiù. Nemmeno sa che esista. Ed è pure un tipo intelligente. Lo amo da morire. Oh, mala ragazza! Chissà che ci trova in quella lì. Forse lo so. Io non sarò mai così bella, accidenti! Ehi, piccolo! Oh, dovevo proprio sedermi tra loro due? Almeno così sto vicino al mio amore. Peccato che sia praticamente invisibile. Ciao, bellezza! Questo è per il solo e unico. Glielo passi? A lui, ok? Comunque... Ma che sono, il vostro postino? Chissà che c'è scritto poi. Oh, ma sei seria! Non voglio passargli questa roba. Povera me. Tieni. Cosa? Oh, mi manda dei bacini, eh? E io te ne mando altri tanti. Come se la scuola non fosse già difficile. Sono proprio stanca di vivere così. Quanti sei bella, quanti sei carina, bacini bacetti. Oh, spiancante! Non sarò mai come quelle ragazze così belle. Con quelle belle labbra. Ma forse posso farci qualcosa? Magari dando più volume ai miei capelli. Oh, e mettendomi un po' di rossetto, sì. Anzi, tanto rossetto splendido. Adesso posso fare anche io le mie stampe. Ho davvero le labbra così sottili. Oh, non posso proprio farcela, accidenti! Stupido rossetto. Che rabbia! E questi capelli sono davvero un disastro. Ehi, ma... Un momento. Forse posso usare questi per le mie labbra. Così sì che le avrò belle gonfie. Oh, oh, già andiamo meglio. Devo solo aspettare un po'. Ok, dovrebbe bastare. Adesso sì che ci siamo. Che belle labbra polpose. Mica come quelle sottili che avevo prima. Perfetto, mi sento già più sicura di me. Ancora voi due. Non capisco che cosa ci sia da ridere, ma ok. Mua! È un gioco da fare in due. Oh? E questo cos'è? Oh, mi ha mandato un bacio! Ci becchiamo dopo, eh? Ma è nuova! Insomma, da qui! Ma no, piccola, voglio solo te! Ah, che bello che finalmente siamo qui insieme! Grazie, wow! Magari un bacio? Ok. Ma cosa? È già qui, non posso crederci, ho dormito troppo! Ma la sveglia non ha suonato! Oh, devo darmi una mossa subito! Oh no, la mia pelle è un disastro! Ok, devo stare calma e fare qualcosa. Mi basteranno un paio di impacchi, sì. Ma cosa? Proverò con l'acqua fredda, allora. Com'è fredda! Cosa? Voleva la pena provarci, giusto? Sparite, occhi gonfi! Ho ancora una faccia tremenda! C'è nessuno? Era il campanello? Va bene. Non aspettavo nessuno. Sì, entra pure. Ok, seguimi, mettiti comodo, ok? Io la chiamo subito, intanto fai come se fossi a casa tua. Sì, possibile che non ci sia un rimedio? Ok, facciamo così. Meglio di niente. Dovrò accontentarmi, immagino. Ma che ci fai seduto qui? Non mi ha vista, meno male. Ho solo bisogno di un paio di minuti ancora. Tesoro? Dai, cara, di che cosa hai paura? Mamma, lasciami in pace! Ah, questi giovani d'oggi! Che c'è? La mia faccia, mamma! Lascia fare a me. Conosco un trucchettino. Io e le mie amiche alla tua età lo usavamo sempre. Tutto quello che ti serve è un cetriolo e una grattugia. Vedi? Ok, dopodiché intingi un po' di cotone nell'intruglio. Una metà per ciascun occhio. Quando sono belli intrisi potrai finalmente toglierti il gonfiore. Via quelle lacrime! Cosa? Puoi usare questi, tesoruccio? Impacchi per gli occhi! Wow! Sono proprio quel che ci vuole! Dai, su! Esci da quel frigo! Gli occhi stanno già meglio. Beh, mi sa che così può bastare. Allora? Wow! Ho gli occhi normali di nuovo! Vai, su! Scusa di averti fatto aspettare. Ma ne valeva la pena, dico bene? Sì, sempre te stessa e ricorda che conta soltanto la bellezza interiore. Qual è stato il consiglio che ti è piaciuto di più? Faccelo sapere nei commenti! Condividi il video con gli amici e iscriviti al canale per altri video fantastici come questo! Si è voltato e ha riso di me! Non lascerò mai più questo divano! Guarda quella ragazza e il suo rossetto è semplicemente perfetto! Non sarò mai bella come lei! Probabilmente a tutti i ragazzi che vuole! Sono più carina di te! Basta! Non piangere, Naomi! Certo che è carina, ma chi se ne frega! Ascolta, penso che possiamo risolvere questo problema. Facciamo una lista di obiettivi di bellezza! A notare i propri obiettivi ha dimostrato di essere un modo efficace per raggiungere il successo! Perché non cominciamo col tuo sorriso? Mostrami i denti! Ok! Tadà! Quando è stata l'ultima volta che mi hai lavati? Accidenti! Ti lavi i denti ogni giorno, ma hai comunque un sorriso spento e giallo? Come questo? Questi denti sono molto macchiati, ma possiamo fare qualcosa! Ti basterà una piccola azione sbiancante ed ecco la nostra super soluzione! Wow! Mi ringrazierai più tardi, amico! Tienilo in bocca per un minuto circa! E lascia che quelle setole facciano il loro lavoro! Ora mostraci i tuoi bei denti bianchi! Questo sì che è qualcosa per cui sorridere! Voglio chiamare subito! Ne prendo uno, per favore! È già qui! Ehi, sei davvero tu! Ci puoi scommettere e ho il tuo ordine! Figo! Grazie! E c'è anche questo tizio qui? Non lo voglio! Va via! Beh, ce l'ho! Bene! Proviamolo! Sono davvero così male? Ok! Oh sì! Ehi, sono così belli e bianchi! Guardali! Beh, magari dovrei mettere un paio di occhiali da sole! Puoi chiudere la bocca, per favore! Ancora non ci vedo bene! David! E adesso? Ah! Il prossimo passo è tenere sotto controllo l'acne! Oh, grande! Ups! Quello era bello grande! E ho anche questo qui! Stavo dicendo! No! Ah, che sollievo! No, per favore, fermati! Forse questo ti impedirà di fare altri danni, vedi? Wow! Eccoti qui! Oh, come soddisfacente! Dai un'occhiata a tutta questa roba! Santo cielo! Sì, fa un po' schifo, però! E so anche cosa puoi mettere sui tuoi brufoli! Patch per l'acne! Basta metterne una su ciascun brufolo! Meno male che ho comprato il pacchetto più grande! Adesso aspetta che facciano il loro lavoro! Accidenti! Ora dai un'occhiata! Guarda! Sono davvero io? Sì! Oh, sono bellissima! Grazie! Potrei guardarmi per ore! Allora, ragazzi! Chi conosce la formula? Nessuno? Io no! Betty? Vieni tu! Va bene! Sbrigati, forza! Non so come si fa! Che cosa va a sederti? Cavolo! Non c'era bisogno di strillare! Qualcun altro? Ok, vieni qui! Mickey di nuovo? Ma sulla sua gonna c'è un buco! Che peccato, non è vero? Dovresti comprarti dei vestiti nuovi ogni tanto! Sto arrivando! Oh! La mia gonna! Guarda che mutande! Riuscite a crederci! Ehi! Tanto vale sfruttare tutto questo clamore! Guarda come si muove! Non fermarti, ok? Riceverà troppi mi piace! Mi piace il ballo delle mutande! Sì, fighissimo! Oh! Guarda, piace a tutti! Ma perché continua a succedere? Adesso basta! Essere belli dentro è tutto ciò che conta! Ricorda di condividere il video con gli amici! E ricorda anche di iscriverti al nostro canale! Vincerò io questa competizione! I miei capelli sono bellissimi! Se lo dici tu! Ovvio! Questo vestito mi starà davvero benissimo! Wow! Mi sa che è cieca! Quanto mi dispiace che non ci saranno dei pennelli per il trucco! Beh, dovrà optare per un look più naturale! Bel vestito! Lo prendo come un complimento! Eh, dove sono i miei pennelli per il trucco? Ero sicura che ci fossero fino a un minuto fa! Oh no! E adesso che faccio? Uno spazzolino! Potrebbe funzionare! Comincerò con la tavolozza di ombretti e un bicchiere d'acqua! Prenderò lo spazzolino e lo immergerò nell'acqua! Poi lo metterò nell'ombretto! Colpisci le setole in modo che il trucco schizzi sul viso! Fidati, so cosa sto facendo! Userò colori diversi per un effetto più audace! Toglierò l'eccesso e adesso il mio ombretto è spettacolare! Ciao, bellissima! Madame e Messie, benvenuti! Che lo spettacolo abbia inizio! Non sono così sicuro! Salve! Sono senza parole, lei è davvero unica! È svalorditiva, ma come? Siete troppo gentili! Teste di fisica, è andato benissimo! Ok, basta a festeggiare! Ok, calmati! Mettilo nell'armadietto! Ecco fatto, insieme agli altri test! Ah, quest'anno sta andando benissimo! Oh, Albert, so che sei fiero di me! È tempo di uscire da qui! La scuola fa schifo! Aspetta un attimo! Ehi, nerd! Dammi quella barretta! Ho detto dammi quella barretta! Adesso! Adesso vattene! Il pranzo gratis! Questa barretta non è affatto male! Oh, accidenti! Cavolo, c'è così tanta spazzatura! La spingerò via! Ecco fatto, non è un problema mio! Devo andarmene da qui! Che diavolo! Da dove arriva tutta questa spazzatura? È la giornata peggiore di sempre! Ok, devo farmi le unghie! Pennellate dritte e precise! Ottimo, sta venendo benissimo! Ci soffio sopra per farle asciugare! Ho una notifica! Sì, guarda un po', una festa! Figo! Fammi finire di truccarlo! Che cosa fai? Smettila! Che c'è? Devi usare questi trucchi! Non esiste e non fanno per me! Rimane solo una cosa! La battaglia dei trucchi! Wow, chi ha vinto? No, sono tutta rosa! Ed io sono tutta rock! E lo odio! Abbiamo fatto un terribile sbaglio! Ci andiamo comunque alla festa? No, grazie! Niente festa! Siamo ridicole! Ok, fammelo appuntare! Dovete ricordare la radice quadrata! Radice quadrata, capito! Dovete ricordare di riportare il resto! Mi ha rubato il cappello! Ah? Cos'è quella notifica? Accidenti, una chiamata! Che cosa faccio? Il prof mi strillerà di sicuro! No, non esiste! Non posso permetterlo! Non posso rispondere! Molto meglio! Quello non appartiene alla sciglia! Oh! Che cos'è? Bella? Che stai facendo? Wow! Come va perdente! Ah! Sei troppo forte! Guarda chi c'è sul mio telefono! Che sta succedendo laggiù? Oh, ehi! Vuoi salutare il prof? Aspetta, cosa? Che succede? Prof, saluti! Guardi chi c'è! Scusate, ma che cosa è successo? Sapevi che se elevi al quadrato questo numero un sacco di volte ottieni zero? David, non smetti mai di stupirmi! Wow, chi è quel ragazzo? Ah, davvero incredibile! Quegli occhi! È come una statua greca ambulante! Persino i suoi capelli sono perfetti! Wow! Wow! Sarà meglio concentrarsi! Ma proprio oggi sto così! Non è l'ideale! Aspetta! Penso di avere qualcosa che può aiutare! Maschera per il trucco in arrivo! È come un grande franco bollo per la faccia! Cosa diavolo? Fatto! Scusami! Ciao, carino! Perché sta ridendo di me? Ah, smettila! Nessuno ride della mia migliore amica! Naomi! Si è voltato e ha riso di me! Non lascerò mai più questo divano! Guarda quella ragazza! Il suo rossetto è semplicemente perfetto! Non sarò mai bella come lei! Probabilmente a tutti i ragazzi che vuole! Sono più carina di te! Basta! Non piangere, Naomi! Certo che è carina, ma chi se ne frega! Ascolta, penso che possiamo risolvere questo problema! Facciamo una lista di obiettivi di bellezza! A notare i propri obiettivi ha dimostrato di essere un modo efficace per raggiungere il successo! Perché non cominciamo col tuo sorriso? Mostrami i denti! Ok! Tadà! Quando è stata l'ultima volta che li hai lavati? Accidenti! Ti lavi i denti ogni giorno, ma hai comunque un sorriso spento e giallo? Come questo? Questi denti sono molto macchiati, ma possiamo fare qualcosa! Ti basterà una piccola azione sbiancante ed ecco la nostra super soluzione! Wow! Mi ringrazierai più tardi, amico! Tienilo in bocca per un minuto circa! E lascia che quelle setole facciano il loro lavoro! Ora mostraci i tuoi bei denti bianchi! Questo sì che è qualcosa per cui sorridere! Voglio chiamare subito! Ne prendo uno, per favore! È già qui! Ehi, sei davvero tu! Ci puoi scommettere e ho il tuo ordine! Figo! Grazie! E c'è anche questo tizio qui? Eh, non lo voglio! Va via! Beh, ce l'ho! Bene! Proviamolo! Sono davvero così male, eh? Ok! Oh sì! Ehi, sono così belli e bianchi! Guardali! Beh, magari dovrei mettere un paio di occhiali da sole! Puoi chiudere la bocca, per favore! Ancora non ci vedo bene! David! E adesso? Il prossimo passo è tenere sotto controllo l'acne! Oh, grande! Ups! Quello era bello grande! E ho anche questo qui! Oh, stavo dicendo! No! Ah, che sollievo! No, per favore, fermati! Forse questo ti impedirà di fare altri danni, vedi? Wow! Eccoti qui! Oh, come soddisfacente! Dai un'occhiata a tutta questa roba! Santo cielo! Sì, fa un po' schifo, però! E so anche cosa puoi mettere sui tuoi brufoli! Patch per l'acne! Basta metterne una su ciascun brufolo! Meno male che ho comprato il pacchetto più grande! Adesso aspetta che facciano il loro lavoro! Accidenti! Ora dai un'occhiata! Guarda! Sono davvero io? Sì! Oh, sono bellissima! Grazie! Potrei guardarmi per ore! Ora passiamo alle sopracciglia! Ok, è meglio che mi spazzoli i capelli! E intendo tutti i tipi! Anche i peli! Belli e lisci! Oh, che labbro peloso che hai! E hai anche delle folte sopracciglia! Ecco! Come sto? No, dobbiamo fare qualcosa al riguardo! Qualcosa per rimuovere tutti quei peli! Prima le sopracciglia! O forse i baffi! Oh, non so! Sta diventando tutto così complicato! Quale metodo sarà più efficace? Questo coso mi piace un sacco! Penso di esserci arrivato! L'epilatore duemila! Dal nome sembra sofisticato! Ta-da! Ma come funziona? Beh, strappa i peli! Tutti quanti! Li sta togliendo tutti! Ecco! Guarda! Niente più monociglio! E i miei baffi sono spariti! Sei il meglio! Tutto quel pensare mi ha fatto venire fame! Voglio i noodles! Potrei mangiarli a tutte le ore! Venite da papà! Accidenti! Quella doccia è stata fantastica! Ora è il momento del trucco! È tutto più semplice ora che la mia pelle è più sana! Occhi di gatto in arrivo! Oh, mi è venuta bene! Ma la riga è irregolare! Forse se la allungassi... Sì! Oh no! Come sta andando? Che ne pensi? Esatto! Beh, posso darti una mano? O magari un fazzoletto? Dammelo! Ecco! Un cerotto! Da mettere sugli occhi così! Ok! Ecco qui! Ehm... Quaggiù, David! Grazie! Lo devo usare come uno stencil, giusto? Ora la riga sarà più dritta! Non ho bisogno di avere una mano sull'acqua! Superferma! Entrambe le parti saranno uguali! E il risultato finale? Fin qui tutto bene! Non riesco a credere a quanto sia facile! Ehi, guarda! Grazie! Ehi, è la tua forchetta? Ho un'idea! Può aiutarmi a creare delle linee per il contouring! Belle e dritte! Devi solo mescolare! Perfetto! E il manico mi aiuterà per le guance! Guarda che bella linea perfettamente dritta! Non male, direi, vero? Ma per quanto riguarda le mie labbra? Voglio averle belle! Qualche idea? Non so molto di labbra! Fammi pensare! Ehi! Lo so! Un qualcosa che aspira! Ho un aspirapolvere! Oh? Non sono tanto sicuro! Naomi, no! Oh no! Ha lasciato il segno! Sospettavo che sarebbe successo! Ti bastava questo! Applica la stessa pressione, vedi? È ora? No! Adesso? Ok, è il momento della grande rivelazione! Ecco! Belle e rimpolpate! Grazie, sei il migliore! Allora è meglio che mi vesta! Ho un vestito sotto la vestaglia! Com'è? Prenderò il tuo silenzio come un buon segno! Allora, che ne pensi? Eh, io... Sì? Tu, eh... Sì! Grazie, David! Ci vediamo! Cos'è appena successo? Penso di aver perso Naomi per sempre! Perché? Tutto deve cambiare! Mi è sempre piaciuta! Persino quando indossava gli occhiali! Anche la sua acne era super carina! Ho sempre visto la sua bellezza interiore! Allora è il caso che io mi abbini alla sua ritrovata bellezza esteriore! Adesso i corridoi sembrano così diversi! Adesso i corridoi sembrano così diversi! Potrò uscire con i ragazzi popolari? Ma ancora più importante, con Jared! O la va o la spacca! Ehi, aspetta! Che si dice? Sono io, Naomi! Non ti riconoscevo, ehi! Non essere timida! Wow, sei così bella! Vieni più vicina! Ok, ma perché non riesco a smettere di pensare a David? È sempre stato lui il mio unico vero amore? Dopotutto è il mio migliore amico! Non posso credere che lo sto facendo! Devo andare! Ehi! Scusa, ma io... Oh! David! Ti stavo cercando dappertutto! Sono così felice che tu mi abbia trovato! Ciao! Penso che tu sia bella dentro e fuori! Sul serio? Wow! Devo splendere! Ehi, Betty! Andiamo al cinema? Prendiamo la tua auto nuova? Ciao, Mickey! Che bella giacca di jeans! Grazie! Devo andare a lezione! Cosa? Io non valgo niente! La mia vernice... È una tela vuota! Verrà benissimo! Vediamo se a Thomas piacerà ancora la sua giacca! Devo fare in fretta! A nessuno piace avere delle macchie addosso! Sembra macchiata di senape! Sì? Hai qualcosa sulla tua giacca? Oh no! Ma sono sempre così attenta! Tranquilla, nessuno lo vedrà! Che peccato! Ma forse posso aggiustarla! Hai una macchia sui vestiti? Lascia che ti ispiri a creare qualcosa di unico! Metti un guanto e poi della vernice! Poi premi la mano contro la giacca! Guarda che bei colori! E qui ci vuole anche qualche bello schizzo! E fatto! Sì! Ho appena ribaltato la situazione! Wow! Lo devo postare questo! La tua giacca sarà virale! Che succede qui? Guarda che bella la sua giacca! Insomma, potremmo farlo volendo! Sarebbe fighissimo! Non so, non sono così coordinato! Ma ci posso sempre provare! Wow! Sono bravissimi! Quindi è tipo così! Nick è così carino! È il mio ragazzo ideale! Saremmo una coppia così bella! Potrei perdermi nei suoi occhi! E la sua risata! È musica per le mie orecchie! Ok! Gli chiederò di uscire! Qual è la cosa peggiore che può succedere? A parte essere umiliato davanti a tutti! Haha! Troppo forte! Ehm... Possiamo aiutarti? Nerd, che cosa vuoi? Ho un'idea! Ma perché l'hai fatto? Oh, mi è scivolata scusa! Che situazione strana! Sì! Non è stata carina! Perché lo ha fatto? Ehi! Io devo andare! Quaggiù! Non sei stata tanto carina! Abba? Non posso credere di averci creduto! Non sarei mai dovuta andare da lui! Perché succede sempre a me! A Nick non piacerò mai! Non riesco a pensare ad altro! Guarda che bel sorriso! Ah! Che sta succedendo? Eccoti! Ti ho cercata in così tanti telefoni! Dammi una mano! Oh! Ok! Sono così felice di essere libera! Si stava stretti! Allora ciao! Sei reale? Sì! Però vivo nel tuo telefono! E sono qui per farti un bel makeover! Ma prima... Guarda queste scarpe! Eh... Ho già delle scarpe! Farò finta di non averle viste! Che ne pensi di queste? Molto meglio! Forza! Ok! Per camminare con i tacchi devi avere fiducia in te stessa! Ed equilibrio! Fa quello che faccio io! Vedi? Fiducia, sicurezza e ostentazione! Devi immedesimarti nella parte! Prova tu! Ok! Quanto può essere difficile! Devo solo camminare! Wow! Proprio così! Lo sto facendo! Ci è mancato poco! Forse ho fatto il passo più lungo della gamba! Ma ci riproveremo! Lezione numero due! Flirtare! Facilissimo! Rilassati! Si giocosa e amichevoli! Ehi tu! Scusa, ero distratta! Proviamo! Continua! Oh, che male! Ma mi piace! Poi devo accavallare le gambe! Ok! È come il gioco Twister! In questo modo? Ciao! Che si dice? Oh, magari non sorridere! Sarà più dura di quanto avessi immaginato! Vuoi un bel sorriso hollywoodiano? Con questo gadget i tuoi denti brilleranno! È proprio quello che ci serve! Che diamolo! Ehi! Scusa, a noi serve di più! Apri la bocca! Che dovrebbe fare? Oh, fa il solletico! Posso toglierlo adesso? No, non ancora! Questi mi serviranno! Ok, togli pure! Va bene! Come sto? Wow, molto meglio! Ok, sei pronta per la lezione numero tre? Dobbiamo fare qualcosa per quei vestiti! I miei vestiti! Che cos'hanno che non va? Oh, lo so! È un po' come giocare con le bambole! Che sta succedendo laggiù? Sono quasi pronta! Ti farò rimanere a bocca aperta! Ta-da! Ma fai sul serio? Che intendi? È di tendenza! Sì, per le nonnine! Tu sei solo gelosa! Mi serve un po' d'aiuto! Meno male che esistono delle app apposite! Questo mi piace, ma anche no! Molto meglio! Troppo corto! Sembra una tovaglia! Questo per carità! Questo è carino! Credo che abbiamo un vincitore! Ora facciamo qualcosa per quei capelli! Che ne dici di questi? Anche no! No! Vuoi averli rossi? O lavorare in un circo? Mi piace! Wow! Sei spettacolare, ragazza! Che differenza! Mi sento così carina! Non fissatemi! Vieni qui! Ho una sorpresa per te! Oh, com'è emozionante! Posso aprirla? Aspetta! Mi stanno chiamando! Devo resistere! Non devo guardare la scatola! Devo essere forte! Mi sto chiamando! Non resisto! Devo vedere cos'è! Devo toccarla! Oh, sì! Oh, no! Le mie mani hanno accidentalmente aperto la scatola! Aspetta! Sta avvenendo, Ava! Non c'è nessuno! Devo solo dare un'occhiata! Quanta roba! Non ho mai visto così tanti cosmetici! E sono miei! Oh, perché vedo tutto sfocato? Proverò a truccarmi da sola! L'ho già visto fare ad altre persone! Devo solo spennellare un po'! Oh, mi piace! Scusa tanto! Che sta succedendo? Betty? Hai aperto la scatola? Betty? Parlami! Sei tornata! Ah, stammi lontana! Cosa? Oh, che paura! Fa nulla! Posso aggiustarti? Cos'è questo posto? Devo pulire lo schermo! Oh, molto meglio! Proviamo di nuovo! Adesso però ti trucco io! Cominciamo dalle sopracciglia! Grazie a questo stencil avrai le sopracciglia più folte! Proprio così! Quante invenzioni innovative! Smettila di parlare! Risalteranno ancora di più adesso! Fatti guardare! Adesso viene la parte più difficile! Ti rimpolperò le labbra! È necessario! Mi fa il solletico! Penso che sia ora di toglierli! Wow, guarda le mie labbra! Magari a Nick piaceranno, ti immagini? Ecco un trucco ingegnoso! Passa una forcella interdentale intrisa di rossetto intorno al bordo delle labbra, vedi? Poi fai una X sull'arco di cupido! Una volta fatto il contorno riempi col rossetto! Niente sbavature o casini! Soltanto delle belle labbra carnose! Oh, non così veloce! Ci penso io! Che ne dici? Lo so, sto bene! Che diavolo! Com'è possibile? La nerd! Lei è figa! Bene! Ingrassero dalla disperazione! Non ci posso credere! Aspetta ma... Quello è un brufolo! Tutte a me succedono! È tutta colpa di Betty! Aspetta! Ho avuto un'idea! So cosa fare! Grazie mille! È stato divertente! Cos'è questo? Qualcuno mi ha lasciato un regalo! Forse è stato Nick! È così romantico! Non vedo l'ora di assaggiarli! Quindi è qui la festa? Wow! È fighissimo! Adoro questa canzone! E Nick è già qui! Betty! Dai, balliamo! Betty! Wow! Sono così buoni! Oh già! La festa! Qualcosa non va? Non ci posso credere! Che cosa hai fatto? Devo pensare a qualcosa! E subito! Aspetta! Credo di sapere che cosa fare! Userò questo coltello per tagliare la punta del pennarello Facendo piano, devo darle forma così Voglio creare un cuore Adesso devo solo premere sopra i brufoli E non si vede più niente! Come stai bene! Come farei senza di te? Credo che tu sia pronta! Vai e divertiti! Sono così nervosa! Wow! Ecco Nick! Spero che mi noti! Eh, ciao! Betty! Cosa? Ci sono! Devo ricordarmi tutto ciò che mi ha detto Ava! Ehi tu! Ehi! Nick? Stai scherzando spero! Stai benissimo! Lo credi per davvero? Sei così carino! Quindi... Vuoi ballare? Aspetto questo momento da così tanto! Non devi più aspettare! Non voglio che questo momento finisca! Tutto ciò che ho sempre desiderato! Quando guardo te è come se nella stanza non ci fosse nessun altro! Wow! Sta succedendo! Sto per baciare Nick! Mi sono promessa di non piangere! Ehi Ava! Torna subito qui! David! Mi ero completamente dimenticata! Addio Betty! Mi sei mancata! Sei pronta? Dio? Sì! 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 Sì!